Internet of Things e Big Data, quale impatto sul settore assicurativo? Se ne è discusso in un workshop promosso da BNP Paribacardif e organizzato da Economy App e Insurance App al PoliHub, l'incubatore del Politecnico di Milano. L'iniziativa si colloca all'interno delle attività di open innovation della compagnia assicurativa, tra cui c'è anche OpenFab, la Call for Ideas dedicata alle start-up. Nel settore delle assicurazioni nascono nuovi business model di continuo, ha detto Thibaut Schleppi, Global Head of Start-up Relations and Internet of Things, di BNP Paribacardif. Il mondo va avanti e bisogna essere veloci e aperti come le start-up, ecco perché lavorare con loro è strategico. Ai lavori hanno partecipato Cosimo Palmisano, Vice President di Decision, Riccardo Samela, Head of Digital and Communication di BNP Paribacardif, Giampiero Lotito, CEO di Facility Live, Simone Macelloni, Head of Research and Development di BNP Paribacardif, Mirko Bretto, Co-founder di Alit, Gabriele Antonelli, Presidente di Spazio Dati e Alessandro Piva, responsabile dell'osservatorio Big Data del Politecnico di Milano e Stefano Mainetti, consigliere delegato di PoliHub, l'incubatore del Politecnico di Milano. Tutti d'accordo nel considerare che le start-up sono una leva per recuperare terreno sul fronte dell'innovazione. Il tempo di accelerare è giunto anche per le grandi organizzazioni, ha detto Samela. Non è facile però perché, ha sottolineato Palmisano, molte grandi imprese ancora non sanno cogliere tutte le opportunità del cambiamento digitale. La resistenza è soprattutto culturale, ma quando si supera si vede la differenza. La prima esperienza di selezione di start-up per la Call for Ideas dello scorso anno ha già prodotto alcuni risultati concreti, ha ricordato Macelloni, responsabile del progetto Cardiff OpenFab. La nuova call in ambito Internet of Things e Big Data si chiude il 10 novembre.